Ciao a tutti e bentornati. Oggi siamo qua di nuovo per parlare di nuovi prodotti di Olight. Per la precisione il prodotto nuovo di Zecca è la Olight Lantern Mini, che è la sorella minore della Lantern, che avevo già recensito in uno dei video precedenti, ed era una ottima torcia, una novità, un'innovazione di Olight. Questa è la sorellina minore. Praticamente a livello di struttura è praticamente identica, ma è semplicemente molto più piccola. Poi l'altro prodotto che andremo a vedere è questa torcia da bicicletta, è la Olight Altai 2000. È una luce veramente molto potente e molto performante, che dopo andremo a vedere meglio durante un test, ma comunque adesso vediamo un pochino più da vicino queste due torce e facciamo un resoconto delle loro caratteristiche. Eccola qui, la Olight Lantern Mini, la sorella della Olight Lantern. La qualità costruttiva è al pari della sorella maggiore, semplicemente è più piccola, ma è veramente costruita benissimo, molto bella. Resiste alla caduta da un metro ed è anche resistente agli spruzzi e all'acqua, ma non all'immersione. Pesa 239 grammi, compresa la batteria, ed ha quattro livelli di luminosità. Livello 1, 15 lumens 48 ore, livello 2, 50 lumens 12 ore, livello 3, 150 lumens 4 ore, e livello 4, la luce rossa, quella d'atmosfera da tenda. Ecco qui invece la Olight Altai. La Olight mi ha stupito positivamente perché è veramente una torcia splendida. Allora, ha anche un display. Il display vi indica, vi dà varie informazioni, tra cui lo stato di carica della batteria, che in questo caso è al 100%. Poi vi dà la durata residua in base alla potenza del fascio luminoso che sceglierete. E vi darà anche l'indicazione della batteria e del LED che è stato utilizzando. Andiamo a vedere anteriormente. Abbiamo tre LED. Quello superiore è il LED DRL, che è praticamente una luce di posizione da utilizzare durante il giorno. E poi sotto c'è il LED destro e il LED sinistro, che sono quelli più potenti. Si possono usare tutti e tre combinati assieme o tutti e tre singolarmente, anche in modalità stroboscopica. Quindi ci sono tantissime funzionalità e regolazioni di potenza. E di conseguenza, in base all'utilizzo che ne dovete fare, potrete avere il top della luminosità, che arriva a 2000 lumens, con una durata di ben un'ora. Il peso totale della torcia è 183 grammi, compresa la batteria. È IPX5, quindi resistente agli agenti atmosferici, agli spruzzi, all'acqua, alla caduta da un metro. Ed ha un fascio di luce che illumina fino a 165 metri. Comunque ragazzi, credo che non ci sia test migliore di quello sulla bicicletta, quindi adesso lo andiamo a posizionare sulla bicicletta. Ha le sue clip con le fascette adattabili a vari tipi di manubrio, quindi non avrete nessun problema. Adesso andiamo a fare un test in movimento nel buio del bosco. Sono venuto appositamente qui nel bosco per testare al massimo le sue potenzialità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, questa è l'illuminazione più elevata della nostra Holtai. Si è messo anche a piovere, giusto per creare un po' più di atmosfera. Come potete vedere, la torcia illumina giorno comunque, non c'è nessun problema. Sul piccolo display è possibile vedere il tempo residuo, il timer diciamo, alla massima potenza. In questo caso io ve la sto mostrando alla massima potenza, adesso mi dà un'ora e tredici minuti alla massima potenza. Ma è inutile che vi dica che andare in giro per boschi di notte è veramente un'esperienza suggestiva. Poi con questo piccolo temporalino, ancora di più. Poi con questo piccolo. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Come al solito i prodotti di Olight mi hanno veramente soddisfatto tanto perché la qualità, ripeto, è indiscutibile. C'è da dire che i prezzi non sono prettamente popolari, come vi avevo già detto in alcuni altri video, ma d'altronde la qualità si paga. Quindi io vi consiglio di approfittare delle promozioni che ogni tanto Olight fa con sconti fino al 50%. Quindi in questo caso la promozione va dal 26 al 30 e comprende tantissimi prodotti che possono essere scontati fino al 50%. Quindi vi metto tutto in descrizione sotto, il link del sito di Olight. La Olight Lantern Mini è un'ottima lanterna piccola e tascabile da portare ovunque. La Alltie 2000 è veramente un mostro, veramente lumina giorno. Non avrete alcun problema ad andare in giro di notte con la vostra bicicletta. Bene, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti di Olight e se li avete già acquistati. Ciao da Luca, al prossimo video.